a natale mangio i tortellini quanto mi piacciono i tortellini anche la parola è bella c'è la torta beh e a chi non piacciono le torte e poi c'è ini come qualcosa di piccolo e prezioso cioccolatini macchinine salatini e candeline io i tortellini li mangio uno per volta per farli durare di più li guardo con attenzione come un'aquila pescatrice che vola in cerchio sopra il piatto poi ne scelgo uno che nuota nel brodo e scendo in picchiata con il mio cucchiaio il primo tortellino quando ce l'ho davanti alla bocca lo guardo e ne annuso il profumo poi soffio meglio soffiare non si sa mai inizia la discesa qui è un po' buio però già inizia la festa ben arrivato torsellino tutti ti aspettavano il cuore inizio a mettere i dischi vai con la musica dai ragazzi su le mani forza 7 shake da reni shake 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 da reni dai vanglias che si foca dai con la dance i bici fanno la ola che festa quando arriva il tortellino poi nella pancia il tortellino fa gli incontri più inaspettati tutte cose che avevo mangiato molto tempo prima no la brioche dell'autogrill di quella volta che ci siamo fermati mentre andavamo al mare sono passati 30 anni guardala come sta bene non è invecchiata di un minuto poi sabbia di mare è il castello che stava costruendo mia sorella era molto più bello del mio così ho fatto sparire le prove poi una ferrari f40 ecco dove era finita l'avevo cercata per un anno ma come ho fatto a mangiarla è un mistero ma un momento quello chi è un lupo mamma mia ho un lupo nella pancia deve essere lui che a volte mi fa venire quella fame incredibile uno scoiattolo ah ah ecco perché ho sempre voglia di noci e un coccodrillo aiuto aiuto lui deve essere quello della volta che ho mangiato 26 cotolette che mia mamma ha chiamato un dottore in cotolettologia e io mi volevo mangiare pure lui e quelle farfalle ah sì ora mi ricordo ogni tanto sento le farfalle nella pancia ma non mi fanno venire fame mi fanno sentire leggero ma pieno e tutti ballano 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 il lupo con le farfalle il coccodrillo con la brioche è bellissimo e la temperatura sale sale è sempre stato così da quando mi ricordo al pranzo di natale ci sono i tortellini gialli come una goccia di sole ripieni come un abbraccio mangiarli è come dare un morso all'estate anche se fuori c'è la neve mangiarli ti fa sentire subito a casa anche se sei in un igloo in una tenda in una capanna a ognuno dovrebbe aspettare un tortellino con dentro quello che più gli piace un dono un augurio un desiderio mangiare un tortellino è come accendere una piccola fiamma dentro una fiamma di candelina perché natale è comunque un compleanno una ripartenza e i tortellini sono perfetti anche la parola è bella c'è la torta beh e a chi non piacciono le torte e c'è ini come qualcosa di piccolo e prezioso come le candeline e perché un desiderio si avveri beh io soffio meglio soffiare non si sa mai e miam buon natale